Con l'adesione del gruppo Movimento 5 Stelle salgono a 31 i consiglieri regionali che hanno aderito all'intergruppo referendario Parola ai Veneti per chiedere che la popolazione sia consultata in merito alla questione dell'indipendenza della nostra regione. Da sempre, ha spiegato il consigliere grillino Manuel Brusco, il Movimento 5 Stelle appoggia i referendum popolari consultivi per dare la possibilità di espressione ai cittadini. Abbiamo deciso di aderire in quanto dobbiamo rispettare una parte del nostro programma. I cittadini che ci hanno eletto e ci hanno mandato qui in regione vogliono adesso che rispettiamo il programma che abbiamo presentato. Noi rispettiamo la posizione del Movimento 5 Stelle che innanzitutto è quella di voler dare la voce ai bisogni della gente e questo lo vorremmo fare attraverso l'istituzione di un referendum, lo strumento referendario. Nel caso Veneto, puntualizzano i pentastellati, appoggiamo in particolare i principi di autodeterminazione sapendo che il Veneto si trova stretto tra due regioni, il Trentino Alto Adige e il Friuli Venezia Giulia a statuto speciale. Perché il Veneto non possa godere di autonomia da sempre concesse a territori vicini e simili, per storia e tessuto sociale è una domanda alla quale si deve dare risposta. Anche se la nostra non è una posizione indipendentista, la decisione aspetta soltanto ai cittadini. Abbiamo una visione che è quella sempre descritta anche sul nostro blog, che è quella di arrivare agli Stati Uniti d'Italia, una federazione di macro-regioni con forte autonomia locale e con strumenti di partecipazione diretta sul modello del federalismo svizzero.